TV6 ha superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Per la precisione, sono state 10.248.289. Il tutto fino a qualche ora fa, si è inteso, perché adesso saranno sicuramente aumentate. Il tutto su 30.665 video che sono stati caricati a partire dal 10 febbraio 2009. Un risultato di grande prestigio, che dà valore a quello che è il nostro lavoro e la nostra capacità di informare gli abruzzesi, non solo in Abruzzo, ma nel mondo. Eccezione fatta per l'Italia, i paesi con la maggiore frequenza sul nostro canale YouTube di TV6 sono stati infatti la Germania, gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra e la Francia. Insomma, gli abruzzesi nel mondo hanno scelto la nostra emittente per conoscere i fatti e gli accadimenti della loro terra d'origine. L'83% dei visitatori sono uomini, il 17% donne. Il dato non è sorprendente, dal momento che gran parte delle visualizzazioni riguardano i video dello sport, del calcio in particolare. I minuti visualizzati sono stati 9.400.000, vale a dire che è stato visualizzato quasi un minuto per ogni servizio, in pratica quasi l'intera produzione. Un risultato eccezionale che fa di TV6 la televisione abruzzese con il maggior numero di visualizzazioni, tenendo conto che altre realtà sono staccate di svariati milioni di contatti. La lungimiranza di chi ha visto nel canale YouTube e nella partnership con questo tipo di comunicazioni in rete è stata premiata. Siamo certi che impiegheremo magari meno tempo per toccare quota 20 milioni, il nostro lavoro e il nostro impegno saranno sempre superiori, certi di avere un gradimento alto da parte dei nostri amici, come si diceva una volta, vicini e lontani.